Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Venezia. Continuiamo a parlare di sanità anche nel prossimo servizio. L'assessore regionale Coletto è tornato da una due giorni a Roma per parlare di riparto e la percentuale per quanto riguarda il Veneto è molto lontana dalle reali esigenze della nostra sanità. Sentiamo perché. Io non vedo grossi malattie, credo che basti addirittura un po' meno di un vaccino, basta un'aspirina per rimettere in sesto. Il paziente in questione è la sanità veneta, alle prese con buchi e tagli dei contributi statali. L'assessore Coletto è tornato da una due giorni romana per parlare del riparto nazionale senza risposte certe e con la preoccupazione di vedere assegnata alla nostra regione una percentuale di fondi troppo bassa. Per ora, per quanto riguarda il riparto che è stato proposto, noi siamo intorno a un incremento dello 0,5%. Per andare benino bisognerebbe che questo riparto ci sia la possibilità di avere almeno il doppio, 1-2%. La battaglia è dura, i fondi sono quelli che sono, la coperta è sempre più corta. Il Veneto chiede un trattamento particolare in quanto regione virtuosa, ma la sicurezza di ottenere quanto rivendicato non c'è. Ma noi ci stiamo battendo per arrivarci, se poi arriveranno, questo non glielo so dire perché non è una sfera di cristallo. Intanto l'assessore alla sanità replica il direttore generale dell'Ulss 12 Antonio Padoan, che nelle scorse ore ha attaccato la giunta veneta, dicendo che nelle casse veneziane mancano 48 milioni di euro che dovevano arrivare proprio dalla regione. Ma se rivediamo questi 48 milioni in un bilancio regionale direi che di no, assolutamente. Ripeto, è stato un riparto vagliato dalla giunta, ricontrollato e modificato dalla quinta commissione consigliare è ratificato come è tornato dalla quinta commissione consigliare della giunta. Quindi sono state fatte le valutazioni e le valutazioni attente. Per questa edizione di DG Venezia Mestre è tutto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie.